Ciao piccoli, ciao conciolotti, bentornati, bentornati, bentornati. Allora stavo pensando che video portare e mi è venuta in mente una cosa molto semplice, particolare, voglio fare un video con tema trigger rossi e l'occhio mi è caduto un po' per caso su questo perché ero lì che pensavo che video fare siccome sto registrando in giorni che c'è sempre confusione qui da me la concentrazione a volte la perdi. E quindi devo colpire gli attimi in cui mi sento in vena di fare un video e questo è uno di quei momenti nonostante il rumore che fanno i miei vicini ma va bene lo stesso. L'importante è che non sentiamo tirare giù gli scarichi perché vi assicuro che si sente anche questo amplificato chiaramente dal suono del microfono. Allora ragazzi, vi dicevo questo è un video trigger a tema rosso e per questo ho deciso di portare una rosa rossa, un pennello da brushing rosso che vedete sicuramente sempre nelle mie live ed un rossetto rosso della Kiko. Allora ci faremo vari trigger, iniziamo da quello quasi mai usato sul mio canale arrivato di recente con il video di mortesia che è quello della rosa rossa che è quello della rosa rossa, in tanti l'hanno amato, anche come i suoi trigger. Grazie a tutti, grazie a tutti. Voi intostate le auricolari e rilassatevi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.